In questo video vediamo com'è facile preparare il nostro orto in cassone per semine e trapianto. Ok, guardate qua c'è la Bea che sta tirando veramente tanto e casca anche giù. Però a parte questo momento così scherzoso, in realtà è molto semplice preparare per l'impianto e si fa tutto a mano, a mano con piccoli oggetti, con piccoli strumenti, anche in un terreno che è stato molto tempo senza essere preparato. Ma prima di tutto facciamo un passo indietro perché preparare il cassone per il trapianto, in questo caso, è importante, no? Ma che senso ha se non c'è qualche cosa da trapiantare? E quindi andiamo subito a comparare le piantine. Grazie a tutti. 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 dobbiamo fare una gran pulita di questa nostra iuola, di questo cassone per l'orto perché si è riempito di erbe. È un po' tardi, nella stagione andava pulito prima e sarebbe stato più semplice, ma abbiamo avuto altro da fare e non è ancora pronto. Però lo stiamo facendo adesso l'orto. e quindi via tutto, là ci sono una salvia ananas e quella non mi ricordo cos'è, credo un timo, che sono cresciuti a dismisura e vanno limitati perché servono solo due foglie ogni tanto, quindi non abbiamo bisogno di un cespuglio così grande. e per il resto però stiamo lasciando questi bei fiorellini, sono dei bulbi, che fanno dei fiori. Basta. A lavoro. Basta. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.